Diretta e intensa, basterebbe solo questo gesto, basterebbe questo gesto. Sapete cosa ha fatto Biden in Vietnam? Amici, un vero disastro, a tal punto che lo staff di Biden è costretto a spegnergli il microfono. Amici ed è tutto vero, potreste dire no, è impossibile, non è fake news, no no, Biden, il signor Biden, il signor Biden cosa ha fatto, un vero disastro. Allora è arrivato in Vietnam, ne parlano tutti i quotidiani più importanti, è arrivato in Vietnam Biden per un incontro bilaterale, Putin sta perdendo la guerra, è sconcerto però per la gaffa di Joe Biden, in che mani siamo, altro disastro di Joe Biden, lo sconcerto dire calo, l'ultima incredibile gaffa, amici è veramente, ci sono dei titoli incredibili a questo qua di Biden perché c'è ricascato Joe Biden, c'è ricascato, il presidente americano di cui da mesi si discute della tenuta psicologica e dalle difficoltà nei contesti pubblici, una difficoltà evidente che ormai è evidente a tutti, ha portato il suo detto stampa della Casa Bianca ad intervenire interrompendolo durante la conferenza stampa in Vietnam, Karine Jean Pierre ha letteralmente tagliato il discorso di Biden durante la conferenza stampa e di fatto ha censurato leader democratico 80enne, perché ha capito che la situazione stava veramente degenerando, io non so perché, perché quando parlo di Biden parte il cane da baiare, non ho mai capito questa cosa qua, il mio cane inizia a baiare quando dico Biden, è incredibile, proviamo eh, Biden, no, si è fermato, ha capito che sto parlando di lui, si è fermato, incalzano ovviamente i giornalisti da tutto il mondo per questa cosa successa, per questa frase, pensate, ve lo dico che cosa ha fatto, siete pronti? Non voglio fare una diretta troppo lunga, Biden è arrivato in Vietnam a questo incontro, dopo aver partecipato al G20 in India, infatti Sleep Joe, come era stato sprezzamente ribattezzato dal suo nemico, giurato Donald Trump, ha pensato bene di salutare la stampa di Hanoi in Vietnam con una frase simpaticissima, siete pronti? Vi ricordate il film, il film no, Good Morning Vietnam, ha deciso bene di salutare con questa frase, Good Morning, Good Evening Vietnam, Good Morning Vietnam, allora attenzione, Good Evening Vietnam, ok, o Good Morning Vietnam, amici, è una cosa gravissima, perché durante la guerra, no, il conduttore radiofonico della famosa canzone, vi ricordate che è la famosa canzone Good Morning Vietnam, di fatto era una frase che utilizzavano, era il simbolo dei bombardamenti a tappeto degli americani nei confronti dei Vietcong e dei civili vietnamiti, ecco Biden, senza pensarci, li ha salutati così, Good Morning Vietnam, io sto ridendo ragazzi, ma qua non c'è da ridere, perché un presidente degli Stati Uniti non può fare queste gaffe, a tal punto che la sua, ed è tutto ufficiale, la sua responsabile stampa, ha detto spegnetelo, spegniamo i microfoni Biden, no Biden, spegniamo i microfoni, amici, veramente, io vi chiederei un parere, vi chiederei di condividere, notizia flash, molto breve, ci sentiremo alle 19.30, perdonatevi, con le notizie del giorno dal paragone, che ne abbiamo alcune clamorose in modo impressionante, ma questo veramente fa capire in che mani è il mondo, in che mani siamo? Ci porta una guerra nucleare? Sì, può essere, perché magari si dimentica che le arame nucleari fanno casino, fanno male, no? Questo però è certo, questo è certo, ogni dubbio è lecito, amici, ogni dubbio è lecito, ma che dubbi? Qua dubbi non ce ne sono, Biden, Biden, come si fa a fare un errore del genere? Come si fa a fare un errore del genere? Detto questo, amici, vi auguro un buon pomeriggio, mo stacco e me la vado, mi vado a bere uno spritz pensando a Biden, no in verità non bevo, sono praticamente a stemmi ormai, poveri noi, come dice Rosaria, poveri noi, amici, è tutto vero, è tutto vero, e pensate che c'è qualche democratico italiano che dice ancora, prendiamo un spunto da Biden, anche la nostra Presidente del Consiglio ultimamente l'ho vista per manino con Biden, devo dirlo, devo dirlo, io sono onesto e dico tutto, amici, io sono onesto e dico tutto, mi dicono che Dani ha visto il video questa mattina, io ovviamente non posso pubblicare il video perché potrebbero bannarlo per questione di diritti, ma è tutto vero, tutto verissimo, Biden, figurone incredibile, good evening, Biden.